Il PD stoppa Monti sul lavoro fisso e monotono, sindacati soddisfatti dall'incontro con il ministro. Via libera l'emendamento della Lega sulla responsabilità civile dei magistrati, PD è una norma che vuole intimidire i giudici. Video inchiesta di UDEM da Manziana, il paese senza acqua. Buonasera a tutti e ben ritrovati su UDEM, come avete sentito dai nostri titoli, tanti gli argomenti che hanno caratterizzato la giornata politica, cercheremo di approfondirli insieme. Vi invitiamo a portare pazienza ed aspettare fino alla fine della trasmissione per vedere il reportage che Maddalena Carlino ha realizzato nel piccolo comune di Manziana, alle porte di Roma, dove i cittadini sono costretti dal comune a rimanere senza acqua per tre lunghissimi giorni. Ma ora cominciamo subito con l'attualità politica. Dopo il caso Lusi torna nell'agenda del Parlamento la proposta di legge sui partiti. A chiederlo a gran voce sono il segretario del PD Bersani e il leader dell'Udc Casini. I due leader ne hanno parlato questa mattina nel corso di un faccia a faccia alla Camera. Al di là del caso Bersani spiega, anche sulla spinta dei Presidenti della Camera chiediamo che si metta in rapida discussione e approvazione una legge sui partiti. Ci sono cinque o sei proposte depositate, si può partire da lì, ma è un'urgenza al primo posto, diamoci tempi strettissimi. Nello stesso parere anche Pier Ferdinando Casini che dice che indipendentemente dal caso singolo è evidente il malfunzionamento dei meccanismi interni dei partiti. Chiediamo l'attuazione da tempo di una legge in questo senso, un ordine del giorno che è sempre stato rinviato. L'obiettivo è quello di garantire che i partiti siano case di vetro. Tutti gli aspetti funzionali devono essere regolamentati per legge, annuncia sempre Casini. Allora sentiamo qual è il senso di questa iniziativa proprio da Pierluigi Bersani, segretario del PD. Bersani, sulla scia del caso Ludi si sta ripensando a una norma, a una legge di riforma sulla trasparenza di finanziamenti ai partiti? Non è che stiamo pensando. Noi abbiamo parecchie proposte già da tempo depositate in Parlamento per l'applicazione dell'articolo 49. Io ho detto a più riprese, non da oggi, da mesi, che ritengo questa una priorità. Mi auguro che le Presidenze di Camera e Senato vogliono promuovere una corsia preferenziale per una legge di questo genere. Ripeto, ci sono proposte, molte di espressione del PD. Possiamo unificarle, rafforzarle. Sulla base di alcuni principi molto semplici non ci può essere un euro di finanziamento pubblico senza una certificazione esterna, pubblica e trasparente nel bilancio dei partiti. Non ci può essere un euro di finanziamento pubblico senza una trasparenza dei meccanismi di partecipazione interna dei partiti, di trasparenza delle responsabilità, che è un patrimonio di tutti e non di un partito solo. Non ci può essere un euro di finanziamento pubblico ai partiti senza una considerazione della maastricht, come ho detto sempre, dei costi della politica, cioè di un tararsi sulle esperienze medie delle democrazie europee. Su questi tre principi si può rapidamente fare una norma di legge. Ripeto, le proposte sono state avanzate, parecchie da noi, alcune dal partito radicale, da altri. Benissimo, siamo pronti a discuterne e andare rapidissimamente a una soluzione di questo problema che è assolutamente urgente. E ora passiamo a parlare di lavoro. Il governo e le forze sociali si sono incontrate per discutere su come riformare il mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali. Ci racconta com'è andata Alessandra Dell'Olmo. Il governo andrà avanti lo stesso sulla riforma del mercato del lavoro, con o senza il consenso delle parti sociali. Lo ha ripetuto oggi il ministro del lavoro Elsa Fornero durante l'incontro con CGL, CISL, UGL e UGL e Confindustria. Si tratta di un treno che l'esecutivo non intende perdere, ha detto il ministro, da varare anche senza accordo, massimo entro tre settimane. Un confronto definito comunque fruttuoso dalla Fornero, al quale intende dare un seguito, entro dieci giorni, sempre con sindacati e imprese, senza escludere incontri separati e gruppi di lavoro. Nella riunione durata tre ore, il ministro avrebbe poi affrontato l'articolo 18, parlando di licenziamenti per motivi economici, senza la questione del reintegro, ma solo con l'indennità di licenziamento. Il tema è sul tavolo, ha confermato poi la presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, dando così il via libera alla riforma. Il posto fisso non esiste, noi illuderemo le persone nel dirgli che avranno un posto fisso per tutta la vita, non esiste più, però noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo rendere le imprese più competitive, dobbiamo fare in modo che chi, anche a causa della crisi, purtroppo rischia di perdere un posto di lavoro, abbia tutti gli strumenti di formazione, ma anche di supporto al suo reddito nel momento in cui non lavora, per poter nel più breve tempo possibile ritrovare un posto di lavoro. Di parere diversi sindacati, con Angeletti e Bonanni, per i quali l'articolo 18 è contro le discriminazioni, non c'entra nulla con la flessibilità, e la Camusso, che è risposta a Monti dopo le recenti parole sulla monotonia del posto fisso, chiede che si abitino le battute e si diano risposte. In questo momento in Italia ci sarebbero tantissime persone che sarebbero felici di annoiarsi, e che ce n'è purtroppo moltissime che non si possono annoiare perché stanno disperatamente cercando un posto di lavoro. E quindi credo che bisognerebbe ragionare dei grandi problemi dell'occupazione con una grande attenzione al fatto che parliamo spesso della disperazione di tante migliaia di persone che già sono disoccupate o che temono la disoccupazione. E forse più che usare delle battute bisognerebbe provare ad indicare a loro qual è la strada che il Paese intende intraprendere per dargli una risposta. La cosa importante è che discutiamo di cose concrete, di garanzie concrete da dare al lavoratore e lavoratrice italiani. Per i sindacati comunque la vede d'emergenza resta la precarietà e l'occupazione, ma hanno apprezzato il dialogo del Governo, la distinzione della Fornero tra una flessibilità buona e una cattiva, in entrata e in uscita, e le parole del Ministro Corrado Passera presenta l'incontro per il quale la flessibilità in uscita è un tema da affrontare, visto che l'obiettivo dell'esecutivo è creare nuovi posti di lavoro. E su questo tema è tornato anche il capogruppo del PD al Senato, Anna Finocchiaro, spiegando quali sono le aspettative sulle riforme del Governo sul tema del lavoro e sul tanto discusso articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Sentiamo. Noi usciamo da un periodo nel quale la rottura sindacale è stata coltivata con grande pervicaccia, mi riferisco al Governo Berlusconi, il fatto che si ritrovi un clima di confronto, un clima di unità anche tra le forze sindacali, io lo considero un ottimo alleato per la crescita dell'Italia e credo che questo clima andrebbe continuamente coltivato con attenzione e con dedizione. È ovvio che tutto questo non può volere dire fermarsi sulle riforme necessarie che l'Italia deve affrontare e che non necessariamente, secondo una lettura che ne danno i mass media, devono essere le riforme che penalizzano il lavoro, ma al contrario, che meglio garantiscono un inserimento in un mondo del lavoro che è cambiato e che va modernizzato. Quindi sull'articolo 18 qual è la sua opinione? Sull'articolo 18 io ho un'opinione molto tradizionale, quindi se lo chiede a me le dico che il fatto che un lavoratore abbia tutela per i licenziamenti ingiusti, senza giusta causa, senza giustificato motivo, io continuo a trovarlo un punto centrale della relazione tra il lavoro e l'impresa. E lo avete sentito anche nel nostro servizio, continuo a far discutere la frase detta ieri nella trasmissione Matrix dal Presidente del Consiglio Mario Monti. Sentiamo che cosa aveva detto. I giovani devono abituarsi all'idea che non avranno un posto fisso per tutta la vita. Del resto, diciamo la verità, che monotonia è un posto fisso per tutta la vita. È più bello cambiare, avere delle sfide, purché siano in condizioni accettabili. E questo vuol dire che bisogna tutelare un po' meno chi oggi è ipertutelato. Tutelare un po' di più chi oggi è quasi schiavo nel mercato del lavoro o proprio non riesce a entrarci. Ecco, avete sentito la frase dello scandalo che per la prima volta dall'insediamento del governo tecnico sembra aver fatto davvero infuriare il PD e non solo. Il web è infatti stato invaso da commenti ironici ma anche molto indignati sulla provocazione del Primo Ministro. Il segretario del PD, Bersani, in un primo momento aveva risposto seccato a Monti dicendo che il posto fisso diventa monotono quando uno ce l'ha e si può guardare intorno. Quando uno il posto fisso non ce l'ha è desiderabile. Il segretario ha però aggiunto che non bisogna legare una visione delle cose ad una battuta. Il pensiero di Monti, ed io un po' lo conosco, è un po' più articolato, ha aggiunto. Nel pomeriggio Bersani è tornato a parlare della provocazione di Monti, sentiamo quindi che cosa ha detto. Cosa si senterebbe di dire oggi a Monti sulla battuta di ieri, il posto fisso monotono? Tanto non inchiodiamo Monti a una battuta. Io lo conosco abbastanza per sapere che la sua visione è un po' più complessa di quella battuta. Io dico così, il posto fisso diventa monotono forse per chi ce l'ha. Chi non ce l'ha lo vede come un desiderio. Questo è il punto. Chi ce l'ha può guardarsi attorno. Chi non ce l'ha lo vuole, lo cerca. Partiamo da qui. Partiamo dal bisogno degli italiani e dei giovani di avere un lavoro. Questo è il punto centrale, dovrebbe essere il punto centrale di tutto quello che facciamo e di tutto quello a cui pensiamo. Spero che questo tavolo che finalmente sia aperto tra governo e forze sociali possa portare qualcosa di positivo. Sono convinto che ce ne sono le condizioni. Noi lo sosteniamo questo governo, può dare una mano al paese a uscire dai problemi, l'abbiamo fatto, l'abbiamo sostenuto con generosità, con lealtà. Diremo sempre la nostra però, no? E quel che non ci pare soddisfacente di quel che si sta facendo, cerchiamo di modificarlo o promettiamo di modificarlo quando la situazione avrà la sua evoluzione. E anche il senatore del PD ed ex ministro del lavoro, Tiziano Treu, cerca di guardare dietro le parole del professor Monti, chiarendo Non credo proprio che Monti abbia voluto tessere l'elogio della precarietà. Credo che volesse dire che il posto fisso non esiste più e questo lo si sa. E sa che per quanto riguarda la necessità di cambiamento del posto di lavoro, se questo è volontario ed è legato ad un arricchimento professionale, si tratta di una dinamica già presente in molti altri paesi. Quello che però è veramente importante, conclude l'ex ministro, non sono le parole ma i fatti. Stiamo a vedere che cosa si farà nell'ambito della riforma del mercato del lavoro. E proprio di mercato del lavoro si è parlato oggi pomeriggio alla sede nazionale del PD. Il Partito Democratico ha infatti organizzato un seminario dal titolo Oltre la precarietà, più diritti, più tutele, più occupazione. Convegno organizzato dall'Associazione Lavoro e Welfare, prosieduto dall'On. Cesare Damiano, insieme all'Associazione Ares, a Europa Lavoro e Imprese, all'Associazione 20 Maggio. Domani potrete vedere alle ore 20 l'integrale di questo seminario sul nostro sito www.udem.tv e sul canale 808 di Sky. Intanto però vi facciamo vedere una piccola sintesi con alcuni estratti degli interventi di Cesare Damiano, Sergio D'Antoni e Stefano Passina. Il punto di unificazione di queste proposte, che noi avanziamo anche alla discussione, è di costruire delle soluzioni, il passaggio dall'ingresso nel mercato del lavoro, la stabilizzazione del lavoro, che unifichino davvero le tutele e le condizioni fra le vecchie e le nuove generazioni. Per noi non ha senso parlare di contratto unico, a parte il fatto che non sarà mai l'unico contratto, quando si teorizza, come fa Ichino, una distinzione di tutele fra chi attualmente è nel mercato del lavoro e quindi manterrebbe l'articolo 18 e gli altri diritti, e chi entrando nuovo nel mercato del lavoro, al momento della stabilizzazione perderebbe la tutela dell'articolo 18 sostituita da un indennizio monetario in caso di licenziamento. Non si può parlare di contratto unico se strutturalmente si sancisce una divisione tra tutele. Il sindacato, dopo anni di divisione che hanno contribuito a questa condizione, finalmente ha trovato una posizione unitaria. Per quel che mi riguarda, il PD deve difendere questa posizione unitaria e deve dire al governo con chiarezza o c'è un accordo su quel tavolo o il PD non vi vota. Niente! Lo dico come la penso. Non ci saranno, è giusto che ci saranno conseguenze, però io me lo posso permettere. Penso che il messaggio deve essere chiaro. Siccome la Fornino ha detto accordo o non accordo, il governo va avanti, noi dobbiamo dire senza accordo che il governo va avanti, ma il PD non ci sta. Io credo che ci sia un deficit di conoscenza del mercato del lavoro. Il Presidente Monti è un grandissimo conoscitore del mercato delle merci e dei servizi. Nel mercato del lavoro non ci sono le merci, ci sono le persone e bisogna stare molto attenti. In una fase come questa, che è una fase in cui i precari sono insicuri, ma c'è tantissima insicurezza e paura anche da chi ha il posto fisso, ha il lavoro con l'articolo 18. Contrapporre, riproporre dopo vent'anni di fallimenti il conflitto generazionale come categoria per spiegare la nostra situazione è sbagliato. Non lo diciamo perché siamo amici dei sindacati, anche se è vero siamo amici dei sindacati e vogliamo che i sindacati vengano ascoltati. Lo diciamo perché è così, perché si prendono in giro innanzitutto quelli che si dice di voler aiutare, cioè i giovani. E ora cambiamo argomento, colpo di scena alla Camera dei Deputati. Oggi il Governo è stato battuto sull'emendamento del leghista Gianluca Pini che prevede la responsabilità civile dei magistrati. L'emendamento che è stato inserito all'interno del DDL comunitario del 2011 recita che Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto, di un provvedimento di un magistrato in violazione manifesta del diritto o condolo o colpa grave, nell'esercizio delle sue funzioni o per diniego di giustizia, possa rivalersi facendo causa allo Stato e al magistrato per ottenere un risarcimento dei danni. Sull'emendamento l'esecutivo aveva espresso un parere negativo, eppure i voti a favore sono stati 261 e 211 i contrari. Sembra quindi che si sia ritrovata l'armonia tra PDL e Lega in materia di giustizia. Il Ministro Paola Severino commenta a caldo l'esito del voto. Il Parlamento ha votato ed è sovrano, ma confidiamo che in seconda lettura si possa discutere qualche miglioramento perché interventi spot su questa materia possono rendere poco armonioso il quadro complessivo. Luca Palamare e Giuseppe Cascini, Presidente e Segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati, parlano di una forma intimidatoria e di vendetta verso il libero esercizio della funzione di giudice, nonché di un ennesimo tentativo di risentimento e di retorzione nei confronti della magistratura. È una norma incostituzionale, rileva Cascini, in contrasto con i principi affermati dalla Corte di Giustizia europea. Una mostruosità giuridica che il Senato dovrà cancellare. Dario Franceschini, capogruppo PD alla Camera, è intervenuto proprio dall'aula di Montecitorio, quindi sentiamo che cosa ha detto. Oggi è successo un fatto politicamente molto grave, grave politicamente e grave nel merito. Innestato in un buon lavoro che ha fatto la Commissione Politiche Comunitarie, introducendo nel testo degli elementi positivi, cito da ultimo i pagamenti alle imprese, ma dentro questo buon lavoro è stato introdotto un elemento gravissimo, inquinante, e cioè questa norma sbagliata e con tantissimi profili di incostituzionalità sulla responsabilità civile dei magistrati, tema che non si può affrontare in un modo così affrettato e approssimativo. E per questo noi dovremmo votare contro la legge comunitaria, perché è difficile votare un testo nel quale c'è una norma di questo genere. Per noi è molto difficile, come partite e come singoli deputati. Votiamo a favore soltanto perché il Ministro delle Politiche Comunitarie ha fatto appello alle forze politiche facendo presente che la mancata approvazione della comunitaria comporterebbe dei procedimenti di infrazione a carico del nostro Paese e di violazione delle norme comunitarie. Soltanto per questo. Ma lo facciamo con una richiesta che io voglio fare in quest'Aula in modo formale, e cioè la richiesta di un impegno del Presidente del Consiglio, Mario Monti, a che gestisca politicamente questa vicenda tra le forze politiche che sostengono il Governo. Una vicenda troppo delicata per poter essere lasciata per poter essere lasciata a un voto segreto e a un meccanismo di maggioranze variabili e improvvisate. A noi, a noi, a noi, il Governo, il Governo nei momenti precedenti... Colleghi, per cortesia, onorevole Ronchi, onorevole Ronchi... Nei momenti precedenti la votazione il Governo ci ha riferito di un impegno del popolo delle libertà di votare contro quell'emendamento. Il voto segreto evidentemente ha dimostrato che è successo un'altra cosa. rientra nella libertà dei singoli deputati. Ma non è normale che questo avvenga su un parere contrario del Governo. Su un tema di questa gravità, di fronte a un parere contrario del Governo, non è possibile che ci sia una distinzione non dichiarata. Allora, un Governo non si può basare sul sostegno leale, a prescindere di alcuni gruppi parlamentari e sulle mani libere di altri. Non può funzionare così. È per questo che noi votiamo la legge comunitaria, ma lo ripeto, chiediamo un impegno immediato del Ministro della Giustizia e del Presidente del Consiglio per modificare al Senato questa norma con un'iniziativa del Governo nei confronti delle forze politiche che lo sostengono. Ecco, avete sentito il duro commento di Dario Franceschini e duro anche il commento del segretario del PD Bersani che parla dei soliti trucchi dell'ex maggioranza. Sentiamolo. Bersani, passa la norma sulla responsabilità civile dei magistrati. Che cosa cambia adesso? Intanto diciamo che chi afferma di votare in un certo modo e poi vota nell'altro non dà prova di responsabilità. E qui siamo di fronte a un gesto di irresponsabilità, sia nel merito della questione, che è una questione che c'è ma che va affrontata assolutamente in altri termini e sia sul piano politico. Sia chiaro che noi non possiamo accettare una situazione nella quale esiste chi è pronto, è leale, è attento a sostenere un'iniziativa del Governo e chi si mette in libertà. Non possiamo assistere, come abbiamo visto nel caso Rai TV, come vediamo oggi su questo problema, rispuntare una vecchia maggioranza in modo non dichiarato. Questo non è accettabile. E quindi sul punto noi chiediamo che il Governo riprenda il filo del ragionamento con le forze che hanno votato la fiducia e che al Senato venga sanata questa faccenda. Perché così non va bene. Questo voto ricompatta la vecchia maggioranza? Formalmente no, perché nelle dichiarazioni, come abbiamo sentito, c'era solo la lega di una certa opinione. E poi nell'Aula è successo altro. Credo che chi ha votato forse ha, in questo modo, forse ha sottovalutato oltre che la questione di merito anche una questione politica generale. Cioè noi stiamo mettendo al primo posto l'Italia che ha dei problemi seri, molto seri. Stiamo faticosamente cercando, con lo sforzo di tutti, tecnici e non tecnici, di uscire in una situazione di emergenza. Chi destabilizza questo percorso si prende una responsabilità molto seria. Soprattutto se questa cosa viene fatta su questioni di principio molto rilevanti. Nessuno mette in discussione la necessità che venga considerata la responsabilità dei giudici. Ma non in questi termini, non in queste forme. Questo è inaccettabile perché mette sotto pressione la libertà dei giudici di fare il loro mestiere. E qui non possiamo arrivarci. Ora ci spostiamo al Senato dove è in discussione il decreto sulle liberalizzazioni. La Commissione Giustizia ha dato parere contrario ad alcuni articoli del decreto. In particolare la Commissione si è espressa a maggioranza con un parere contrario a tre articoli del testo licenziato dal Governo. Il primo riguarda il Tribunale delle imprese. Il secondo l'articolo 9 sulle professioni regolamentate che introduce l'abolizione delle tariffe. E poi quello che riguarda l'efficienza produttiva del risarcimento diretto e del risarcimento in forma specifica. Filippo Berselli del PDL, Presidente della Commissione, commenta Si trattava di norme inaccettabili nel merito che comunque non sarebbero dovute rientrare in un decreto legge non solo per la mancanza dei requisiti di necessità e urgenza ma anche perché non si prestavano un serio e costruttivo confronto. L'auspicio è che il Governo prenda atto di questo motivato parere e ne tragga le dovute conseguenze. C'è la preoccupazione quindi che il decreto liberalizzazione possa essere snaturato da PDL e Lega anche se Anna Finocchiaro, capocorpo PD al Senato, stempera i toni specificando che questa è solo una fase preliminare. Allora sentiamo proprio dalla senatrice del PD quali prospettive ci sono per questo decreto. Questo paese va riformato talmente profondamente e il Governo Monti ci sta lavorando così seriamente che è ovvio che molte cose hanno da essere messe a sesto, meglio inquadrate. Il Tribunale delle Imprese è una modifica assai seria del nostro sistema è ovvio che per fare i tribunali delle imprese che funzionino non si può caricare sui pochi tribunali che hanno la competenza fino a questo momento solo di marchi e brevetti senza pensare ad una ristrutturazione in termini di risorso, in termini di personale, in termini di professionalità per rendere questa giustizia comunque una giustizia funzionante e accessibile. È ovvio che noi abbiamo sostenuto questa parte del decreto sulle liberalizzazioni ma non vorrei neanche enfatizzare questi primi momenti di lettura del provvedimento da parte delle commissioni. Ci vorrà una discussione approfondita, ci siamo dati i tempi congrui qui al Senato e io credo che alla fine quello che verrà fuori sarà un quadro che conserva intatto il nervo riformatore del provvedimento. E ora cambiamo argomento. Vi leggiamo un estratto della lettera pubblicata oggi da Roberto Saviano su Repubblica su un'iniziativa veramente speciale. Lo scrittore Campano scrive «Accade che un ordine dato da un clan imponga il coprifuoco e che il resto del paese quasi non se ne accorga. Accade a Secondigliano, Scampia, Melito, Giuliano, in un territorio che raggiunge quasi 300.000 persone. I clan danno l'ordine. Entro le 7, 7 e mezza di sera bisogna chiudere i negozi, entro le 8 tornare a casa, i bar al massimo entro le 22 devono avere le saracinesche chiuse. E continua Saviano. Eppure quasi nessuno parla di quel che accade. In questo caso Twitter sta dando il suo contributo. Pina Picerno, deputata del PD, ha dato avvio con un tweet ad un movimento spontaneo che sulle norme di Occupy e Wee Street invita a riprendere il controllo delle strade di Scampia, a sottrarle a chi si sente di possederle e di poter disporne liberamente. Capiamo quindi meglio qual è il senso di questa iniziativa e sentiamo proprio dalle parole dell'inventrice di Occupy e Scampia, Pina Picerno, giovane deputata del PD, come è nata questa idea. Salviamo Scampia. Parte da Facebook e Twitter il movimento popolare che, con il nome di Occupy Scampia, si propone di riportare i giovani nel quartiere napoletano, cancellare le piazze dello spaccio e porre fine ai regolamenti di conti tra il clan dei decisionisti e una fazione dei vecchi killer legati ai di Lauro. A Scampia corrono voci di un coprifuoco imposto dalla Camorra, notizia smentita da forze dell'ordine e magistrati. Gli abitanti, nonostante le rassicurazioni, temono stia scoppiando una nuova faida con un rinato clima di violenza. La mobilitazione è partita da un cinguettio su Twitter della deputata campana del PD, Pina Picerno, che si ispira al movimento di Zuccotti Park. Facciamo capire a ste bestie che quel territorio non è il loro. Chi c'è? Forza! Occupiamo Scampia. Un'iniziativa che sul web ha successo, il Tam Tam registra un tweet al minuto, è una pagina Facebook. Lo slogan è loro fanno chiudere i negozi e noi occupiamo le strade. Il caso è anche approdato in Parlamento, con il PD che annuncia interrogazioni al ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri. Che cos'è Occupy Scampia? Beh, è un movimento spontaneo, nato su Twitter, un movimento incredibile, inaspettato e assolutamente meraviglioso. Nato dopo un mio tweet, che era un po' la risposta indignata, arrabbiata, incazzata, dopo aver letto un articolo del mattino che parlava appunto di un coprifuoco imposto dai clan appunto nel quartiere di Scampia. Quindi da qui un tweet e poi tutto quello che è venuto dopo. Chi parteciperà? Ma parteciperanno tantissimi ragazzi. Io ho ricevuto in questi due giorni centinaia e centinaia di mail, di tweet, di contatti, di ragazzi appunto che dicono che ci saranno. Quindi un movimento nato dal basso, assolutamente spontaneo, assolutamente vero, una cosa credo nuova e incredibile, veramente. Senta, questi giorni però farà molto freddo, come farete? Beh, staremo vicini vicini, viene da dire, non lo so. Non lo so, però sicuramente il freddo non ci fermerà, sicuramente saremo in tanti a dire appunto che quel territorio non è cosa loro, quel territorio è il territorio di tutti noi, il territorio delle persone per bene che si ritroveranno lì per gridare no alla camorra e no a queste bestie che ci hanno avvelenato la vita. Lo ricordiamo l'appuntamento? Allora domani, domani alle 17 a piazza Giovanni Paolo II a Scampia per occupare Scampia e non mancate. E vi segnaliamo che IUDEM sarà a Scampia insieme a tutti quelli che si vogliono riappropriare dei propri territori, lunedì vi faremo vedere il nostro resoconto e giovedì prossimo Occupai Scampia sarà al centro della nostra puntata sul tema della legalità di Agenda Italia dalle ore 18. E ora dalla Campania ci spostiamo invece a Lazio, su segnalazione di una nostra telespettatrice vi vogliamo raccontare della cittadina di Manziana dove il Comune ha deciso di staccare a tutti i cittadini l'acqua per ben tre giorni con disagi insormontabili, aggravati anche dal peggioramento delle condizioni atmosferiche infatti domani è prevista neve anche a bassa quota nel Lazio. Sentiamo quindi da Maddalena Carlino tutti i particolari di questa vicenda. Un paese a secco, ci troviamo a Manziano nei presti del lago di Bracciano un centro di circa 7500 abitanti che è rimasto completamente senza acqua una situazione che rimarrà così per almeno 3-4 giorni. IUDEM ha deciso di raccontarvi di questa brutta faccenda. E' una cosa indecente, le persone anziane come fanno? Cioè noi dobbiamo venire all'altro capo della città per venire a caricare l'acqua alle persone che purtroppo da sole non riescono. Un paese senza acqua, quali sono le conseguenze? Le conseguenze sono tante e gravi perché è un paese popolato, 7500 abitanti, imprese commerciali che non possono svolgere per intero le loro attività, famiglie che sono a disagio per la gestione delle case sia dal punto di vista alimentare che dal punto di vista anche sanitario e cosa più grave scuole chiuse, quindi tutti i bambini a casa. Siamo operanti con tutte le cesterne dell'agraria e stiamo dando l'acqua con 5-6 posti a Manziana. Signora ma quest'acqua è potabile, la bevete? No, questa no, sarebbe soltanto per i servizi igienici. E quindi come fate? E quindi andiamo dalle fontanelle nei vicini paesi a prendere quella per bere e cucinare. Siamo con l'ex sindaco di Manziana, come mai questo paese è senza acqua? Si è rotta una delle due pompe. Le pompe dell'acquedotto? Dell'acquedotto. E immediatamente è stata messa in funzione la pompa sostitutiva e la pompa rotta è stata mandata in riparazione. Purtroppo il 29 l'amministrazione è caduta per la dimissione e di 9 consiglieri. Nel frattempo si è rotta anche la seconda pompa dell'acquedotto. Si è insediato un commissario prefettizio. Allora evidentemente questa riparazione non è stata fatta. Che vuole dire a chi amministra la città? Che deve pensarci prima? Io sono un cittadino libero. Se io sbaglio pago, giusto? Perciò chi ha sbagliato deve pagare. E questa è la brutta storia di Manziana. Noi abbiamo cercato di contattare il commissario nominato per chiedere spiegazioni ma dopo aver atteso tanto stiamo andando via senza aver avuto il piacere di chiedere se e quando l'acquedotto tornerà a funzionare. Ed appena arrivata in redazione una nota dell'ufficio stampa del PD, il segretario nazionale del PD Pierluigi Bersani, ai sensi dell'articolo 17,3 dello statuto del partito, sentito dalla Commissione Nazionale di Garanzia, ha nominato quale nuovo commissario del PD della Calabria al fedo d'attore responsabile dell'iniziativa politica nell'ambito del coordinamento della segreteria nazionale. Persona di equilibrio con esperienze di direzione politica e conoscitore della realtà del mezzogiorno. La nomina del commissario si è resa necessaria alla luce della situazione del PD in Calabria dell'urgenza di assicurarne la direzione politica dopo le dimissioni del sanitario Adriano Musi dall'incarico di commissario regionale. Ovviamente noi gli auguriamo un buon lavoro. Per oggi è tutto, l'appuntamento è per domani alla stessa ora. A tutti una buona serata.